È stato un bel colpo di fortuna, sinceramente non ce l'aspettavamo. Gratta vince e mezzo milione di euro. La super vincita è stata ottenuta in una tabaccheria di Arezzo del centro storico Aretino. Ci troviamo infatti in accorso Italia. Resta invece ancora misteriosa l'identità del giocatore fortunato. È arrivata la comunicazione della Lottomatica, però non sappiamo chi è il vincitore, quindi probabilmente pensiamo un'occasionale. Sicuramente sarà successo intorno alla settimana di Pasqua, quindi tra i turisti e tutto può darsi che sia stato appunto non un cittadino aretino. 5 euro la spesa del fortunato vincitore che però ha fruttato la bellezza di 500 mila euro. Allora ha vinto il Gratti Vinci 20 per 500 mila euro, quindi mezzo milione. È stata decisamente una bella vincita, sì, non ci si aspettava nessuno. È il massimo della vincita? È il massimo della vincita possibile, quindi ha beccato il pacco fortunato, diciamo così. È una bella sorpresa che non è da tutti i giorni e non è da tutti. Quindi io gli faccio un appello, se vuole passare a offrirci un caffè, noi siamo qui e l'aspettiamo. Nessuno si è fatto vivo ad oggi? Nessuno si è fatto vivo, tante domande e nessuna risposta. Si ipotizza, battute, ma niente, ancora non è arrivato nessuno, quindi siamo qui a aspettarlo.